zombie apocalypse ragazzi come direbbe il romagnolo siamo qui siamo ancora qua siamo nella riviera siamo nella sala giochi ragazzi la pami vuole vincere alle macchinette vuole vincere quel sonic la che vedete in fondo ragazzi vediamo se ce la fa con questi 2 euro 3 partite per 2 euro già la vedo storta la macchinetta ma la pami ci prova lo vuole a tutti i costi ragazzi a me sembra buona ma fai quello che vuoi vediamo se lo prende vediamo se lo prende sembra buono sembra buono sembra buono non riesce non ce la fa vediamo la prima reazione la vedo molto la vedo molto provata per questa perdita andiamo a vederla dal vetro ragazzi ci riprova ci riprova guardate che meraviglia di peluschi ci sono ma a noi interessa proprio quello di sonic da buoni amanti dei videogiochi vinte io andrei più in fondo sembra buono anche quello ce la deve fare ce la deve fare non può non farcela non può non farcela la pinzata è buona la pinzata è buona peccato che lo stringe peccato che lo stringe come va come va lo vuole lo vuole allora vediamo se spacca tutto col vetro intanto questa cosa vediamo attenzione c'è anche un minion là in fondo ma in un'altra macchinetta lo vuole lo vuole secondo me se l'è spostato troppo vediamo se riesce a prenderlo vediamo buona è buona la pinzata è buona la pinzata ancora niente da fare è tutta tua madre ha detto quindi non mi guardare a me vuoi giocare ancora mi dice che sta giocando lei lo vuole lo vuole quando piove dall'alto qualcosa ancora 2 euro ragazzi li va a cacciare dentro nella macchinetta 3 giocate per 2 euro lo stiamo pagando una fucilata questo sonic vediamo se lo riesce a tirar su oppure no oramai è una corsa contro il tempo e contro ogni cosa lo prende ragazzi attenzione lo prende lì cade peccato peccato l'aveva tirato su però l'aveva tirato su ragazzi si è messi bene era quasi felice poi un giorno vi racconteremo cosa le è successo con un minion adesso l'ha girato in una posizione brutta ragazzi l'ha girato in una posizione brutta oh come la vedo grigia sembra buona sembra buona la pinzata come l'ha spostato male come l'ha spostato male quel sonic le brutte situa le brutte situa di nuovo ragazzi sesto tentativo per il sonic sesto tentativo ripreso per il sonic lei va contro frega niente vediamo se lo va a prendere la pinzata è buona la pinzata è buona ragazzi la pinzata è buona ragazzi e adesso non lo prendi più quel coso lì bastardo e quindi? c'è un euro bastardo cosa che vuoi? lo c'è mi sonnini l'ultima volta ti prego era quasi nostro ma non so se lo riesci più a prendere da lì se no prendiamo cazzo io voglio sonic non è che prendi qualcos'altro dentro con gli altri due euro ragazzi vediamo se ce la fa a prenderlo vediamo se ce la fa a prenderlo attenzione attenzione secondo me l'ha messo troppo storto adesso ah ragazzi ah ragazzi ah ragazzi ho già capito che qua siamo fucilati nel stipendio vediamo se ce la fa vediamo se ce la fa la vedo triste la vedo triste settimo tentativo settimo tentativo per lei ho lassato anche l'ombrello mamma guardalo lì quel sonico come ci guarda guarda che faccia che c'ha vediamo qua è buona ragazzi qua è buona ragazzi però lo sposto lo porta più avanti siamo rovinati non ce la faremo mai a vincere il Sonic volevamo prendere il gelato invece abbiamo deciso di prendere il Sonic attenzione terzo tentativo è concentrata ragazzi non ci guarda neanche più è concentrata vai più verso l'esterno indietro indietro eh lì è buono lì è buono vediamo se ce la fa sembra buona ragazzi sembra buona ragazzi la girata aia devo provarci te ciao che ci provo io ciao saluti al nostro pubblico mettiamo i soldi così noi ci fottiamo qua con il Sonic il nostro pubblico è per voi ragazzi ve lo dedico anche a voi questo Sonic ciao